Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Avellino hanno arrestato un 67enne di Montemiletto e denunciato in stato di libertà un giovane del posto, ritenuti responsabili in concorso dei reati di furto e tentato furto continuato. L'azione criminosa è stata interrotta grazie all'intervento di alcuni cittadini, i quali avrebbero sorpreso i due individui mentre tentavano di rubare uno scooter da un garage di Atripalda. Giunti sul posto, i carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato vari attrezzi da scasso, una torcia e dei guanti, l'immediata attività ha consentito inoltre di rintracciare e bloccare il presunto complice, che si era dileguato poco prima dell'arrivo dei carabinieri. 467 secondo quanto emerso dalle prime indagini, i due individui, entrambi già noti alle forze dell'ordine, avrebbero danneggiato e aperto diversi box, da cui hanno rubato lo scooter in questione e alcuni utensili elettrici.